Usare il pollice opponibile E' da allora che l'uomo fa questa cosa, no? Di accoppiarsi, di amarsi, di fare figli, di generare Cioè la nascita di un figlio è la cosa veramente più ripetitiva che esista, no? Che l'uomo fa E tuttavia è sempre colma di meraviglia Sembra sempre nuova E soprattutto il modo, le forme Con cui appunto gli esseri umani lungo la storia fanno queste cose Beh, è sempre uguale ma è anche sempre diversa Cioè il modo con cui oggi una ragazza e un ragazzo si innamorano Danno forma alla loro vita in comune Vivono la dimensione del sesso Generano un figlio, lo educano E' profondamente diverso Per certi aspetti è la stessa cosa, fanno la stessa cosa che prima di loro hanno fatto Le loro nonne, le loro bisnonne, le loro trisnonne Per certi versi Ma per altri versi il modo con cui lo fanno oggi, le ragazze di oggi E' profondamente diverso Da come le loro nonne, le loro bisnonne e le loro trisnonne Hanno concepito un figlio, lo hanno educato E questa differenza da che cosa deriva, da cosa dipende Non dipende dalla cosa in sé No, cioè fare un figlio, ecco la roba lì Beh, dipende appunto dalla cultura Da quell'insieme di simboli Di significati Che non sono semplicemente elaborazioni intellettuali Ragionamenti dai filosofi Poi sono modi di fare Opportunità pratiche Che cambiano la percezione di un compito E come dire danno forma anche a dei significati Che certo alla loro base hanno anche come dire Una consistenza che è sempre identica Cioè caspita il senso di fare un figlio Certo che sarà sempre quello per l'uomo Avrà sempre questa solidità fondamentale E tuttavia come dire i significati che girano attorno A questo nucleo di fondo Di un'esperienza umana così importante Beh però Sono fluide, cambiano a seconda del tempo Della cultura E poi sono cose anche molto pratiche È molto semplici Non so, la mia nonna resterebbe molto stupita Da tutto l'armamentario di oggetti Di cose che oggi servono Per accogliere un figlio E per farlo E la carrozzella E il pannolino con le ali E la pappa quella Che devi stare attento Se c'è il glutine o no Cioè la mia mamma faceva asciugare I miei pannolini Che erano ancora di stoffa Ancora sull'etame In una fattoria Come facevano le nonne Allora questi modi pratici Concreti Che sembrano semplicemente Variazioni di comodità Sì certo che lo sono Ma capite come cambiano anche Come dire La percezione di un compito Le sue modalità E tutto questo su tutto Su tutte le esperienze Della nostra esistenza Della nostra vita Ecco allora Il tema del rapporto Cristianesimo-Cultura Credo che sia Oggi Come dire L'asse più critico Come dire Che patisce La nostra vita cristiana E la vita del nostro Cattolicesimo contemporaneo Cioè è il vero È il vero tema Il rapporto Cristianesimo-Cultura Che prima di tutto Richiede Richiede al cattolicesimo Richiederebbe al cattolicesimo Ed era Ed era la grande sfida Del concilio Vaticano II Seppellito Seppellito Dopo pochi anni Proprio asfaltato Normalizzato Nel 78 Gli hanno messo La camicia di forza Ma proprio E che adesso risalta fuori Capito Con Papa Francesco Con L'Evangelii Gaudium Con la Era lo sforzo Del Del Vaticano II Quello di ridire Da capo Che cosa è il cristianesimo Che cosa è il cristianesimo In cosa consiste La via evangelica Voleva direi appunto Superare Questa concezione Religiosa Del cristianesimo E Come dire Riformulare La natura Umanistica Come dire Dell'annuncio evangelico Di Gesù Cristianesimo È un umanesimo È un modo Di essere uomini All'altezza Della dignità Dell'uomo E quindi Ogni volta Va in qualche maniera Depurato No Di tutte le sacralizzazioni Di tutti i rivestimenti religiosi Di cui comunque Sempre Il cristianesimo Si riveste E si rivestirà Nella storia Ma di cui Il primo critico È stato Gesù No Noi potremmo leggere Il Vangelo Proprio così Come una serrata Critica Da parte di Gesù Di questo Rivestire E imbalsamare Continuamente La relazione Religiosa Dell'uomo Con Dio No Dentro lo scafandro Del sacro E portargli via Invece Quel dinamismo In cui La verità Della relazione Religiosa Come dire È la giustizia Che si deve Alla dignità Dell'uomo No Misericordia Io voglio E non sacrificio Mi avete dato Da mani Ero affamato Avevo fame Mi hai dato Da mangiare Avevo sete Mi hai dato Da bere Cioè che per il cristianesimo La verità Della religione È la giustizia Che si deve All'uomo Questo è quello Che detta Legge Agli occhi Di Dio No E lo sforzo Di Gesù È sempre stato Quello Come dire Di togliere Questa Di liberare Come dire No Questo Questo Necessario Umanesimo Di cui La religione La vera Religione Dell'Alleanza Vive Come dire No Dalla pressione Del governo Sacrale Con cui gli uomini Sempre poi finiscono Come dire No Per gestire La religione Ecco Il concilio Vaticano II Dopo secoli Di nuova sacralizzazione Era sulla via Di questa riscoperta Che voleva dire Riscopriamo anche Cosa è la scrittura L'interpretazione Non si sacralizza Neanche la parola Bisogna riportarla Alle sue condizioni Culturali Storiche Quindi bisogna Interpretarla Bisogna Sì